Salve la gente qui, Gabby e benvenuti su Call of Duty Mother War 4 3! Eccomi qua, sono già morto. Sono Ghost Zombie. Siamo pronti. Mamma mia che figlio di trotta. Graves, pure qua devo trovarmelo. Sono con Makarov in squadra! Oh! Vabbè, le stranezze della vita. Ma adesso andiamo a sculacciare, ragazzi. Andiamo a fare il sedere, siamo in Urzikstan! Droppiamo! Che andiamo a sculacciare qualcuno. Allora. Gioco col controller stavolta. Col controller sono molto più forte io che con mouse e tastiera. Anche perché c'è l'automira. Ok. Lì, lì. Lì sopra credo che ci sia un buon loot. Daglie. Ecco la prima chest. Nuovo Wardle, signori! Vediamo se riesco a fare il salto. E ce la fa! Sorpresa! Ha preso tipo una zipline, avete visto? Vai, questa è la zipline orizzontale. Novità di Warzone 3. Che arrivi nei palazzi più veloci. Oh yeah! Vabbè. Ok ragazzi, tempo di andare a prendere il loadout! Prendiamoci il mitraglione! E il drone! Ragazzi, drone bomba! Ma questa è una bella bestiolina che se riesco a passare, andiamo a vedere se troviamo una preda. Non ci credo! L'ho ucciso! E ragazzi non mi fermo qua, qua sopra ho sentito gli spari. Quindi, silenzio di tomba. Oh la! Bella! E là sopra c'è uno? Dai! L'ho ucciso! Dobbiamo finirlo. Posto. C'è il suo amico. Quanto cavolo sono? Pigna di questo! Io non so neanche cos'è. Drone danzara. Boh, non so cosa faccia. È pieno. Vabbè ragazzi, a questo punto li pusho. Qua dentro ce ne sono due. Venite qua! No, è troppo pericoloso, butto la smoke. Cambiamo palazzo. Non voglio morire anche perché il mio amico è sempre morto. Oh, loot. Money! Guarda qua. Ci rinfocigliamo un attimo. Questa la metto qui così non mi seguono. Drone. Pignatelo! Dovrebbe esplodere. Oh, not on my watch! Oh, melma! Cavolo, ce li avevo dietro. Ce li avevo dietro. Per fortuna ho messo la mina. Stiamo attenti. Oh, il mio amico ha tirato il mortaio sulla casa. Bene. Anche in faccia a me. Ho sentito passi. La sapevo io. Ma crepa! E basta! Ne sento un altro in casa. Sento passi. È qui. Vabbè. Torniamo di sopra. Prendi il ground. Nascondiamoci. Oh, cavolo. C'era un drone! Ragazzi, ma ce l'avete su con me? Non so come sono ancora vivo. Nascondiamoci. No. Se l'ho sentito bene. Posto. Ma quanti sono? Passi. Melma. Secondo me va a restare. Not to my watch! E adesso vado a restare anch'io. Un po' ciascuno non fa male a nessuno. Vai, vai. Per l'ottava volta. Muore sempre questo qua. Non mi dà una mano. Mai. Sempre che muore. Maffanbrodo. Bravo. Una kill l'hai fatta finalmente. GG. La zona si sta chiudendo. Ci conviene pushare. Tiriamo Ercolino! Vai, Ercolino! Salvaci! Ercolino è meglio. Credo che siano sopra il ponte perché sento gli spari. O sotto. Potrebbero anche essere... Ok, no. Libero. Oh! Versagli nell'area. Qualcuno mi ha sparato. Mi sa che sono sopra però. Vabbè. Andiamo avanti. Movimento in quest'area. Il gatto di avengina. Nuova zona sicura. Localizzata. Melma! Dai! No! Dai! Ma da dove? Da sopra il ponte. Che maledetti! Guardali! Ma che partito stavo facendo? È tipo 10 kill fatto. Mamma mia! Che partita! Terzo posto. Vabbè. A questo punto devo farne un'altra. Let's go! Signori! Sono rinato. Uno sopra il tetto. Non so se mi abbia visto. Mi sa di sì. Allieato disattivato. Ok. C'è il mio amico che li ha pushati. Resisti! Quadra eliminata. Non so se è una buona idea quello che sto per fare. Ok. Ok. Avete vinto voi. Io torno via. Scappo. La facciamo rinascere il nostro amico che per fortuna è ritorno. Ok. Torniamo qua. Qua c'è loot. Cecchino. Let's go. Piastre. Siamo tornati. Siamo tornati come nuovi boys. No dai! Eh sono stato goloso. Ma io ritorno! Ritorno sempre! Ah perfetto. Ottimo. Abbiamo trovato un bel loot. Ora sì che mi sento bene. Queste sono le armi del pro. Voglio! Che stiamo a fare? Stacchiamo dove sono gli altri. Eh questo qua esce così tranquillo. Ci penso io. Andiamo là. Eh vedi? Vedi come arrivano. È pieno qua. Usciamo. Ecco. Dammi una mano. Eh sa sempre morire sto qua. E di nuovo da solo. Fantastico. Fa un cuore va a tutti che mi vogliono. Peccati questo. Col mortaio dovremmo stare un po' tranquilli. Mi campero qua. A posto. Mettiamo il radar così. Eh tutti qua. Mi raccomando. Perfetto. Mi stavo raffando. Peccati questa. Mamma mia che granate di melma. Ho ucciso meno male. C'è un altro sopra? Buona caccia. Grande. L'ha ucciso il mio. Vai vai vai. Finiccelo. Nessun testimone. Oh. Uccisi tutti? Non ho visto uno adesso. No no. Ancora sopra il tetto. Let's go. Prendo la. Il contratto. Sto camperone. Guardalo. Adesso cerchiamo di non far troppo rumore. Perché sul tetto. Sul tetto qua. No non è sul tetto. Comunque sono di fianco a noi. Vabbè ce lo pigliamo noi il tetto. Piano. Che potrebbero essere. Da queste parti. Trolliamo. Trolliamo. No non posso ucciderlo. Maledetti. Pigno da questo. Che giocata però. Gli ho tirato il drone nel muso. Una facciata epocale. Però si sta chiudendo la zona. Io non so. Prendiamo la zipline. Questa volta quella verticale classica. Un po' tutte le abbiamo prese. E cerchiamo di andare in safe. Ecco. Questa casa mi sembra abbastanza safe. Controlliamo che non ci sia nessuno però. Libero. Vai 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 libero libero. E niente. Allora si lutta in qualità. Yes. Muoviamoci ancora perché la zona si è chiusa di nuovo su sta casa. Ed è meglio pigli... Ho visto uno. Dai! Addio Lucifer! Not on my watch my friend. Drone. Droniamo un po'. Andiamo a vedere un po' che c'è sta. Oh! Qualcuno pusha. Però c'è un cecchino. Che non posso. Ma che balle. Ma è niente quel cecchino. Meglio di no. Arrivano dei... Mel! Ma dai! No. Ho sbagliato tasto. Vabbè tanto erano già qui. Che infami! Guardali! Che infami! Oh! Meno male il mio amico mi resta. Meno male il mio amico mi resta. Grande! Una cosa utile. La fa. La fa. Non ti deluderò. Sono ancora sul tetto. Mannaggia loro. Dove andare? Andiamo sulla casa di fianco? Proviamo ad atterrare qui magari. Melma. Non ce l'ho fatta. Il mio amico è morto. Andiamo. Forse posso pigliarmi lutta. C'è ancora lutta. C'è ancora lutta. Bene 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 bene. Mascherina. Let's go. A parte quando te la metti è ancora meno... Visibilità. Vabbè. Andiamo di sopra. Anche si sta chiedendo la zona. Adesso sei tre primi cinque. Ritorno disattivato. Adesso non si scherza più. Io ci provo. Io ci provo. Ho vinto. Ho vinto signori. Vittoria warzone. Mamma mia che partita. Che partite. E adesso ci godiamo il filmato. Oh là. L'ho filmato della vittoria. La prima volta che lo vedo. Prima vittoria. Ma cos'è? Cioè ci attiriamo col paracadutino? Molto realistica sta cosa. Non so se lo facciano anche i nostri militari. Assurdo. Mamma mia. Eccoci qua. Sono ritornato un po' malconcio. Ma sono tornato Graves. Il ritorno degli eroi valorosi. Eccoci qua. Facchiate il nostro orgoglio. Eh sono io. Valutazione. Ah adesso si può la valutazione che dimostra come si è nato. Gabbi. Assalto irruzione. Esperto il combattimento a medio raggio. Roni non ha fatto niente. Ha tirato danni come una spugna. Va bene. Dai no dai. Mi ha arrestato. Diamogli questo. Dai dai. Ci sta. Ci sta. Un bel game. Un bel game. Mi sta piacendo questo Warzone. Un movimento veloce. La scivolata. Molto molto carino. Un po' la solita roba però vabbè dai. Ragazzi questo era Warzone 3. Fatemi sapere come vi è sembrato. Se vi è piaciuto. Io vi ringrazio per la visione. E noi ci vediamo a prossime fantastiche avventure. Ciao ragazzi.